Salve, mio nome è Natascha Fleck e io sono la guida turistica autorizzata e membro dell'associazione delle guide turistiche regionali della Slovenia. Allora oggi sono in campagna in regione che si chiama Bela Kraina o Carniola Bianca. Questa regione si trova a sud-est della Slovenia. Qui abbiamo una tradizione molto bella. Noi offriamo sempre ai nostri ospiti una focaccia. Si chiama Bela Krainska Pogaccia o in italiano la focaccia di Carniola Bianca. In una ciotola impastiamo la farina bianca di frumento, un pizzico di sale ed acqua. Prepariamo il lievito e aspettiamo un paio di minuti. Aggiungiamo il lievito in impasto e lavoriamo fino a ottenere una pasta morbida e asciutta. Poi cominciamo da lavorare energicamente con le mani. Questo lavoro dura circa 15-20 minuti, però tutto dipende dalla farina. Questa è la nostra farina propria così abbiamo sempre un buon risultato. e al fine facciamo riposare, facciamo riposare l'impasto a dovere in un luogo caldo e asciutto per circa mezz'ora, tre quarti d'ora. È venuta la lievitatura, mettiamo l'impasto lievitato su una teglia imburata o usiamo anche la pellicola. Stendiamolo in un cerchio dal diametro di circa 30 cm, pian piano, con le mani, con la pazienza. Infine facciamo anche una spennellata con un uovo sbattuto. E adesso facciamo sette tagli dritti sull'impasto. Sette tagli da un lato e sette tagli dall'altro, dall'altra parte. Così abbiamo cubetti. Allora in ricetta originale al fine si deve fare una spolverata di cumino e sale grosso. Ma da noi, in nostro paese, anche in carniola bianca, si da più di cento anni su ogni cubetto mette un po' di speck. Al fine la focaccia viene quindi infornata per 25 minuti alla temperatura di 200 gradi. Godetevi ogni boccone. all'altra parte. Allora in un po' di�니다. Grazie a tutti.